Buongiorno a tutti, come state? Vi sentite a vostro agio? Visto che stiamo parlando di sicurezza, voi vi sentite sicuri? Sapete, in realtà ci sono alcuni motivi per preoccuparsi. Guardate, queste sono le dieci sfide globali indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come le più significative. Tra queste abbiamo inquinamento, povertà, malattie non trasmissibili come cancro, diabete, che ben conosciamo. Qualcuna di queste però può risultare una sorpresa per la maggior parte di noi? 6 su 10 sono infatti legate a infezioni da parte di virus e batteri e agli effetti che questi microorganismi hanno sulla popolazione. Abbiamo HIV, influenza, virus ebola, virus dengue, la comparsa di microorganismi sempre più resistenti ai nostri farmaci e perché no, possiamo aggiungere anche l'esitazione che spesso abbiamo nel proteggerci, ad esempio quando mettiamo in discussione la protezione dei vaccini. Insomma, dobbiamo preoccuparci di queste minacce? Beh, la bella notizia è che il nostro corpo è costruito benissimo, abbiamo un sistema immunitario incredibile. Noi ci facciamo caso solo le poche volte in cui ci ammaliamo, ma in realtà in ogni momento la sicurezza del nostro organismo è mantenuta da sofisticatissimi meccanismi di difesa disposti su più livelli. È davvero incredibile, credetemi. Pensate che anche le nostre lacrime contengono un enzima in grado di uccidere batteri. Pensate, proprio quando ci sentiamo più deboli, in realtà siamo protetti ancora di più. Questo perché abbiamo vissuto adattandoci alle minacce portate dai microorganismi. Pensate un po' a una sorta di guerra fredda con i microbi, un equilibrio di non belligeranza. Pensate anche a quei film di alieni extraterrestri che arrivano, distruggono tutto e l'uomo all'inizio non può fare altro che rimanere a guardarli, indifeso perché non conosce le loro armi. Alla fine, di solito, qualcuno trova il modo di sconfiggere gli alieni e ritorna alla pace. Ecco, questo è quello che accade quando un virus infetta la specie umana per la prima volta. Magari questo virus convive pancificamente con altri animali che si sono adattati a lui. Però quando passa nell'uomo succede la catastrofe. Volete un esempio? Il virus Ebola. Ebola convive con i pipistrelli senza causar loro alcun danno. Però quando passa nell'uomo si rompe l'equilibrio. È come l'alieno che arriva su un pianeta che non conosce e gli effetti sono devastanti. È anche quello che è successo 500 anni fa alle popolazioni indigene americane. L'uomo occidentale gli ha portato microbi a cui il loro organismo non era adattato e il vaiolo e il morbillo hanno devastato queste popolazioni molto più dei conquistadores. Adesso probabilmente mi direte, vabbè, sono cose lontane, sono passate. Anche Ebola, tutto sommato, qui non abbiamo pipistrelli infettati da Ebola, ne siamo sicuri? Vero? Ma siamo davvero sicuri? In realtà sappiamo che non potremo mai escludere la comparsa di una nuova minaccia microbiologica. L'aveva detto anche il premio Nobel Joshua Ledelberg. La più grande minaccia alla sopravvivenza della specie umana sono i virus. Pensate alla pandemia di HIV. Pensate a quando scoppia una nuova pandemia di influenza. Noi non possiamo prevedere quando questi eventi accadano. Però quando questi virus sono comparsi si sono diffusi ovunque nel mondo, anche qui. Finora però stiamo parlando di eventi naturali. Grazie, è arrivata una lettera. Scusate. Che cosa? Polvere bianca? Che strano. Vabbè, lasciamola qua per il momento e riprendiamo da dove ero rimasta. Dicevo, le infezioni naturali possono essere di ispirazione per malintenzionati e possono essere causate intenzionalmente per interessi subdoli. Aspettate un attimo. La polvere bianca mi ricorda spore di bacillo dell'antrace. Oddio, spero di no, non penso di avere nemici così malevoli. A proposito del bacillo dell'antrace, si tratta di un batterio che troviamo comunemente negli animali, intestinali e resiste incredibilmente a lungo nell'ambiente. Lo possiamo trovare nel suolo anche dopo 40 anni, grazie alla sua capacità di formare spore. Normalmente questo batterio non è un problema per l'uomo, perché per avere un'infezione dobbiamo venire in contatto con una quantità molto più elevata di quella che solitamente troviamo nel terreno. Tuttavia, il contatto occidentale con una dose artificialmente elevata ha effetti catastrofici. Pensate che se su una città passasse un aereo e rilasciasse 50 kg di spore di bacillus antracis, in due giorni circa un quinto delle persone morirebbero e un altro quarto avrebbero effetti a lungo termine. In sostanza, la metà delle persone in città non ne uscirebbe indenne. Ma senza pensare troppo in grande, portando un esempio concreto, nel 2001, dopo l'attacco alle torri gemelle, diverse lettere contenenti spore di bacillus antracis e non farina come questa, furono inviate a sedi di giornali e uffici amministrativi. Cinque persone morirono a causa delle spore inalate all'apertura della busta. Anche se quell'attacco non aveva la pretesa di uccidere su vasta scala, gli effetti economici e sociali furono notevoli. Infatti, per diverso tempo dopo quell'evento, il panico rimase nella popolazione, con un proliferare di falsi allarmi, un incremento delle ospedalizzazioni, la chiusura di interi settori dell'amministrazione pubblica, senza contare la spesa di centinaia di milioni di dollari per la decontaminazione delle strutture e l'installazione di sistemi di sorveglianza. Oggi sappiamo coltivare i batteri, sappiamo produrre e manipolare tossine e agenti patogeni e lo sappiamo fare a un costo relativamente basso. Pensate che per produrre spore di bacillus antracis, con un po' di competenza microbiologica, bastano un garage e qualche apparecchiatura rudimentale. È proprio il basso costo di produzione a rendere i microbi un'attrattiva interessante per il loro utilizzo come arma. Pensate che in relazione al danno prodotto il costo di produzione di un'arma biologica è di 800 volte inferiore a quello di un'arma nucleare. D'altronde questa convenienza è nota da molto tempo, sin dall'antichità. Ad esempio nel 1346 i tartari per impossessarsi di caffa in Crimea lanciarono cadaveri affetti da peste all'interno della città. In questo modo la peste si diffuse nella popolazione debilitandola. Questa peste verrà poi accidentalmente trasportata anche in Europa, dove diventerà famosa come la peste nera che decimò la popolazione europea. Oggi però siamo più colti, conosciamo di più e siamo tecnologicamente più avanzati e allora siamo in grado di produrre armi biologiche più sofisticate, più potenti e dagli effetti più subdoli. Negli anni precedenti alla seconda guerra mondiale e durante la guerra fredda erano attivi programmi di sviluppo in Giappone, America, Unione Sovietica per la produzione di armi microbiologiche basati su batterio della peste, dell'antrace, virus sebola e altri simpatici microorganismi con la licenza di uccidere. Fortunatamente non si ebbe mai uno scontro su vasta scala con queste armi e anche oggi le nazioni riconoscono il pericolo che ne deriverebbe dal loro utilizzo. Tuttavia per parlare di bioterrorismo non serve pensare a un evento su vasta scala, intere popolazioni che muoiono, uso di virus e batteri letali in guerra. Esistono infatti variazioni di questo tema che potremmo definire più quotidiane, più legate a interessi politici, ad esempio. Vi racconto un episodio che è caduto in America negli anni Ottanta, in Oregon per la precisione. Qui si era stabilita una setta religiosa che aspirava a un maggiore potere politico. Questa si candidò allora alle elezioni, ma data la loro inferiorità numerica, per eliminare quanti più voti contrari possibili, causarono un'epidemia di salmonella, diffondendo il batterio in diversi ristoranti della capitale. Centinaia di persone si ammalarono, ma fortunatamente la setta non vinse le elezioni neanche in questo modo. Insomma, che si tratti di infezioni naturali o che si tratti di attacchi terroristici, i microrganismi rappresentano un problema per la nostra sicurezza. Dobbiamo quindi preoccuparcene? Io penso che sì, dobbiamo preoccuparcene, ma senza farci prendere dal panico. Ce la possiamo fare anche in passato, nel 2003, quando è comparso un nuovo agente infettivo che causava la SARS, i ricercatori sono riusciti in breve tempo a capire che si trattava di un nuovo coronavirus e un consenso tra le nazioni ha permesso il contenimento dell'infezione in breve tempo. Quindi ce la possiamo fare. Adesso vorrei spendere un paio di minuti su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché è quello su cui lavoro. Il virus HIV che causa l'AIDS ha provocato milioni di morti, però oggi l'infezione non rappresenta più una sentenza di morte, perché disponiamo di una combinazione di farmaci che anche se non elimina il virus, almeno lo blocca. Però il virus rimane e può comunque minacciare la nostra sicurezza. Tuttavia, nonostante lo spauracchio iniziale causato dall'AIDS, il sentimento comune ignora che il virus è ancora fra di noi. Ad esempio, sapete che il 20-30% delle persone infette da HIV non sa di esserlo? Oltre di AIDS abbiamo iniziato a trascurare anche altre malattie infettive, un po' con la stessa superficialità di chi una volta scampato il pericolo pensa di essere al sicuro, ma così facendo ci esponiamo al ritorno dell'epidemia e inoltre questo atteggiamento di superficialità è quello che potrebbe essere sfruttato da chi vuole minacciare la nostra sicurezza. In fondo, se ci pensate, l'attacco bioterroristico è un po' come lo scoppio naturale di un'infezione, uno scoppio improvviso di Ebola. Le misure che dovremmo attuare per rispondere e gestire un'emergenza naturale sono le stesse di cui abbiamo bisogno anche per affrontare un attacco improvviso, un attacco bioterroristico. Dunque, da dove possiamo trarre conoscenza? Possiamo trarre sicurezza? Secondo me, dalla conoscenza che deriva dalla ricerca. Dunque, voglio lasciarvi con questo messaggio. La ricerca è molto importante per conoscere ciò che ci sta attorno. È importante per costruire un futuro più sicuro. Perciò non è un optional. Investiamo su di essa e avremo un domani più sicuro. Grazie per l'attenzione.